Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Clash of Clans. Ragazzi, in anteprima assoluta abbiamo scoperto una cosa veramente assurda. Ricordate il video di ieri? Andiamolo a rivedere insieme. Avete notato niente di strano? Guardate nella parte bassa della schermata. Questa ragazzi è una nuova costruzione e possiamo già supporre tranquillamente che cosa potrebbe essere. Nel video precedente abbiamo notato nella parte bassa dello schermo a destra un secondo tasto per la creazione di pozioni. Guardando bene questo edificio possiamo capire che assomiglia molto alla fabbrica di pozioni attuale ma non è identica. Quindi il tasto che abbiamo visto ieri non è semplicemente una seconda fabbrica degli incantesimi ma è una nuova fabbrica degli incantesimi. Ebbene ragazzi, a giudicare dall'aspetto e a giudicare anche dalle voci che sicuramente molti di voi avranno sentito, questa potrebbe essere la nuova fabbrica degli incantesimi che funzionerà con l'elisir nero. Questa logicamente è una supposizione perché è un anteprima assoluta ragazzi, non l'ho ancora vista da nessuna parte e me l'ha fatto notare uno tra di voi. Se notate altre cose segnalatemelo tramite pagina facebook o qualunque altra cosa che trovate in iscrizione. Io ragazzi ogni volta che trovo una novità vi faccio subito un video per informarvi. Mi raccomando condividete il video, mettete un mi piace per farlo sapere a tutti. E ragazzi io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!